Ciao a tutti amici e benvenuti su questo mio nuovo video. Questa sarà la reaction alla stream di Age of Empires dove mostreranno nuove informazioni riguantate Age of Mythology Retold, che sarebbe la definition di Age of Mythology con un engine migliorato, sempre lo stesso migliorato, animazioni fatte in tutto e per tutto dal capo, nuova musica. In base a me pochissime informazioni che abbiamo. Una cosa che però è che non so cosa aspettare. Non è che ho paura, però devo ammettere che sono emozionato. Sono emozionato perché io aspetto questo nuovo video di Age of Mythology da tantissimo tempo e speriamo bene. Speriamo bene perché Age of Mythology venirebbe di essere conosciuto da tutti i giocatori che adorano gli strategici, in particolare una sacra di Age of Empires, ma in generale proprio chi ama in genere strategico non può non giocare ai germidologi. Perché il germidologi ha quel guizzo in più che ti permette di giocarci per ore ed ore ed ore. E non ti stanca, non ti stanca! Se hai una creatività immensa puoi creare tantissime cose. E io ci ho creato un film di due ore. Quindi io mi permetto di consigliare Age of Mythology non solo perché è stato, ed è attualmente il mio gioco preferito da sempre, ma perché ti permette di sforare la tua creatività in tantissimi modi. E credo che un videogioco debba avere questo tra i tanti obiettivi. Di far sforare la tua creatività, di farti rinassare, di dire oggi voglio fare una partita tranquilla, oggi voglio stare tranquillo, mi voglio divertire, mi voglio rigiocare per la centesima volta la campagna. Benissimo, facciamolo! Ma puoi giocare in tantissimi modi. Insomma, merita, merita, merita. E il nuovo Age of Mythology, questo Age of Mythology Ritond, deve essere un nuovo punto di partenza. Perché se Age of Mythology, quando uscì nel 2002, in pochissimo tempo fece più di 200-300 mila copie, ci sarà un motivo, perché è un gioco nuovo. E' una... portava aria fresca. E devo ammettere che poi, anche Giovenpare S3 e Giovenpare S4 e Giovenpare S4, e Giovenpare S4 a parte, poi con un altro gioco, ha preso esempio di Giovenpare S3 e Giovenpare S4. sono stati molto buoni, veramente buoni, e Giovenpare S4, comunque sia, è un ottimo prodotto, che apprezzo molto, quindi mi aspetto la stessa cosa con Age of Mythology Ritond. Questa era la reaction a freddomia personale, e video riguardante Giovenpare S4 e Giovenpare S4 e Giovenpare S4 e Giovenpare S4 e Giovenpare S4. davvero colpita. Mamma mia. Vi dico che... avevo le lacrime quasi agli occhi, nel momento ne vedevo, perché... non mi aspettavo determinate cose. però, ne guardiamo tutte insieme adesso. Prostegma? Ciao, eroi! Sono qui nel studio oggi, usando la realtà aumentata per andare in un mondo di Age of Mythology Ritond. Sì, sto stando vicino a un titan gate, e sì, ci saranno molto presto. Il mio nome è Melinda Rose, e sono il direttore di arte qui a World's Edge, e mi sento davvero orgogliosa di essere parte di questa squadra, e di poter mostrare questo gioco a voi, che tutti abbiamo lavorato così hard, e lo so molto. Quindi, in Age of Mythology Ritond, ci siamo non solo appoggiando l'engine, e bringing all the quali-of-life improvements che hai come ad aspettare da World's Edge, ma in addition a questo, ci siamo ancora ancora a fare ancora di più adattare l'arte. Quindi, all new 3D models, all new animations, textures, Ui, VFX, e tutto il che bagno. So, ci saranno tre caratteristiche di la città, Medusa, Pegasus, e Cerberus. Usuali, a volte in cui si vedi i suoi amici, come da un gioco in quanto riguarda la città, ma io mi piaccia, e voglio vedere i amici le caratteristiche come con le più che si possano! Bueno, senza più di più, let's portare Medusa in the studio! Si, sono felice, Oh, hello! This is so cool to see her in real life like this. She's not so low-poly anymore, is she? From this distance, you're able to see all the details we've added to her model to tell her story. Each strand of her hair is an individual wild snake. She wears Grecian-styled golden snake armbands. Her armor is made up of flexible scale mail to mimic scales. And if you're brave enough to get super close and risk being petrified and turned to stone, you can even see her vertical snake-like pupils. Alright, well, I don't have any good counters for Medusa in the building today, and we've got to keep this rolling, so I'm just going to cut straight to her death animation. Medusa, I'm so sorry to see you go. Oh, that's brutal, isn't it? Well, next up, let's bring in Pegasus. Hi, Pegasus! Hi, Maria. Oh, he's so cute, isn't he? So, Pegasus is the majestic winged horse who serves as an Archaic Age aerial scout for the Greek civilization. This Pegasus looks a little fancier than you may remember, and that is because, in Age of Mythology Retold, when you upgrade your myth units through technologies, those units will get a brand new visual upgrade to reflect that increase in power. So, we're looking at the upgraded version today. Say hello, Pegasus. I don't want to keep us too long from the Titan that you're all excited to see, so I'm sorry, Pegasus. We have to say goodbye. Oh, that makes me so sad. All right, last but not least, let's bring in Cerberus. This is the Hound of Hades and Titan of the Greek Civilization. He's a little smaller again than he will be in game, but believe it or not, this was one of the first models that we made for Age of Mythology Retold back when we were trying to decide, you know, what we wanted this game to look like. He wears heavy chains and tattered armor, which represent his escape from the underworld, as well as the mark of Hades on his shoulder pauldrons. Titans have been upgraded to be more powerful against walls and buildings, and even rivers and oceans won't be able to stop their wrecking power. With three ferocious heads and more destructive power than ever before, Cerberus will be a formidable opponent or a powerful ally in Age of Mythology Retold. Okay, well, he is obviously raring to go, and we will see him on the battlefield eventually. I'm sorry, Cerberus, you gotta get going. Oh, oh, I wish I could do that to my opponents in game. So, to wrap things up, our goal is to not only pay homage to the past, but to breathe new life into this game and maximize the mythology. And one more thing before I go, I would like to reveal our official cover art, featuring so many of the iconic gods and heroes players will remember. I am excited to announce that Age of Mythology Retold will be available on day one on both PC and Xbox. So, follow us on socials for behind-the-scenes concept art, as well as before-and-after comparison images of the three models that we've showcased today. And don't forget to wishlist us to stay informed in the future. Our Cantos will awaken in 2024. Thanks for watching everyone. All right. You don't know how many information we have in this precise moment. First of all, let's see the gravity that, from my point of view, is amazing. But above all, look carefully at one thing. This scene here, of the Grosso, that you look from the other side, is very well on the Age of Mythology Extended Edition. Obviously here is a little different one, but it's very similar. Let's see, this is the music that they were not new. I hope you have to understand. They were made from zero, but always the same. And this is something that I love to see. And this is something that I love to see. And this is something that I love to see. I love to see. Because... I love to see. I love to see. I love to see. Incredibile. Per parlarvi... Andate attentamente. Age of Mythology Returns Beta. Cioè, il 23 febbraio del 2024, Age of Mythology Returns, è in fase di beta. Quindi siamo veramente, veramente avanti con lo sviluppo. E questo fa solo ben spera. Perché come sappiamo ci sono sempre stati dei sviluppi e dei ritardi, da parte di svariate case di sviluppo di videogiochi. Quindi, come dire, sapere questa cosa mi fa molto piacere. Poi, se avete notato, ha fatto sentire soprattutto un po' di musiche di geofritologi, di cui un post dei greci, che si chiama Big2Me, un altro in cui tu vinci una schermaglia, una epipibale a due di battaglia. Quindi siamo in buona... Insomma, in una sorta... Questo mi sa che è inedito di Geoffrey Toggi nuovo, perché è troppo simile a cosa che utilizzo io per fare su Extreme Edition. E' proprio... Hanno lasciato i denti. Però vedo che c'è molta... Molta... E' rimasto quasi uguale. Ci sono dei miglioramenti sicuramente. Però vedo che c'è molta... Non lo so, vedo più fluidità. Vediamo che questi sono gli Atlantidei. Perché come potete vedere, questa è il maniero degli Atlantidei. Questo è il suo centro città. Molto interessante. Molto, molto interessante. E poi ha detto che hanno fatto tutto da zero, non solo con animazioni curi moderni 3D, le texture... Cioè... Gli effetti... Oh, oh, oh. Chi è passato? No, è passato un hippocampo di Poseidone. Guardate attentamente. Ecco. Hippocampo di Poseidone. Queste sono le torce greche. Molto interessante. Il catasco forse che sta passando. Il comorso là giù. Guaio è spettacolare. Veramente spettacolare. La texture è fatta benissimo. Come vedete della pavimentazione. Medusa è fatta davvero bene. Cioè, un po' di godi. Insomma, guardate attentamente. Ci sono anche dei dettagli particolari. Soprattutto questo, ad esempio, dei capinghi a serpente, no? Com'è giusto che sia, tra l'altro. E vedendo così ben dettagliato rispetto ai cerchi biologi proprio, fa un effetto bellissimo. Bellissimo. Ovviamente non ho parole. Poi avevano lasciato anche i suoni uguali. Tipo di Medusa, di Pegasus. Bellissimo. Ovviamente è bellissimo. E poi qua dice pure che quando facciamo gli upgrade dalle nostre unità mitiche grazie alle tecnologie, queste tecnologie li smetteranno anche sulle unità mitiche. Quindi questa è una versione migliorata di Pegasus. Quindi penso che qua siamo verso le fasi finale, un'età eroica, un'età mitica. L'animazione è bellissima anche quella. Fatto veramente bene. C'è veramente poco da dire su questo. E conveniamo tutti che l'apertura del Titan Gate greco mandato in portale, come si chiude e come arrivicebbero in questo modo, che poi ha detto che pure che è stata la prima unità, più modello creato, e si vede, perché è meraviglioso. Cioè guardate, fatto veramente bene. E' proprio come abbiamo aspettato, che devi far paura. Cioè, questo modello è fatto veramente in maniera ottima. C'è veramente poco da dire. che è che è stato ha detto pure che i fiumi e gli oceani non saranno più capaci di fermare la sua ferocia. Quindi vuol dire che probabilmente i titani o possono muoversi nell'acqua e sui fiumi, e oppure che il titano se si trova in mare cioè nel senso se si trova vicino al mare e fa un composto su un'acqua tra te ne in acqua prende un soldato ma che ci sono te ne in acqua prende anche quella con la forza turto se fosse così sarebbe meraviglioso vabbè questa parte è spettacolare come va da dire un pezzo è fatto veramente bene e in questi quattro minuti si è potuto vedere buonissime cose la grafica, vabbè, abbiamo già detto è davvero interessante, mi piace molto poi questa è un artwork, è meraviglioso guardate attentamente una cosa allora, ci sono Zeus, Ra, Odino, con i suoi due corni Iside, Poseidone, Gaia Muyesed, Thor, Moki il Minotaur ma giù Neginnaif, Amarra, Arcanthos e in me il presumo che sia Athena ragazzi è meraviglioso e poi esce nel 2024 quest'anno io presumo che uscirà verso la fine io credo verso settembre secondo me credo che ci saranno altri buon sette mesi di sviluppo beta testing e tutto quello che ne conserva perché deve esserci deve esserci per forza di cose io credo che verso settembre vedremo verso settembre avremo anche altre notizie però credo che uscirà verso autunno che dire sono sono molto avevo paura andò qua c'è Nidra il Minotauro e non ne scaccate più un'abilità sono molto curioso voglio farvi vedere una cosa di Geofmitono Genitubia che è già disponibile per metterò nella lista dei desideri sullo stream voglio farvi vedere assieme le foto a questa immagine è quando ci fu una battaglia durante la campagna principale la caduta del tridente sui Geofmitologi in gioco base questa è la battaglia dove dei consiglierano i pezzi di Osiride alla piramide così che potrai tornare in vita a Osiride ecco ho già noto delle cose cioè innanzitutto vabbè questa è una foto quindi prendiamo per quello che sono la grafica mi piace tantissimo il fuoco mi piace molto gli effetti visivi sono fatti da Dio le bombe mi piacciono sperando che non siano così pesanti come sui Geofmitologi Extended Edition l'Elefante da guerra è fatto molto bene l'Ancele Subbiga anche lo vedo molto bene l'Uomo Scorpione eccolo qua questa è la mummia questi sono i Wedgeat quei serpenti che ti sputano addosso il loro veneno i Frombolieri la cata brutta non ho noto ancora la grezza però potrei essere io mi sarebbe piaciuto vedere due uomini a fianco la cata brutta il figlio di Osiride sono i figli di Osiride questi questi sono i demoni del tartaro lo scarabbero il guerriero con ascia eccomi qua i vendicatori i croc e la fenice il tempio la fontezza Mykdon la casa mi ha fatto benissimo cioè guardate le decorazioni fatte veramente bene i monumenti qua il passaggio del monte di tomba che è stato aperto dagli schiavi di Gagarensis la piramide di eh di Posedo la piramide di Osiride il santuario qua dietro e le piramidi nel mura Egizie e la cittadella con la caserma e le torre molto interessante poi qua è molto bello perché ci troviamo con gli antidei con Gaia Argo i Contarius che questi sono eroi probabilmente i Behmoth i Behmoth gli Arcus eroi le storie che di cui adesso mi sfugge il nome c'è un solo punto della lingua Nesperidi cambiamo dei Nesperidi i tempi di Gaia il Titano il Titano Atlantidero il Giganteca il Servo i Satiri qua ci sono poi mi sa che c'è un combattimento navale sì si sono navi incendiali mi piace molto questi sono gli abiti di Gaia questi qua mi piace molto mi piace davvero tanto questo è il suo quindi passaggio aspettate però se questo è Gaia mi sa che lui può essere pure Crono però parliamo a pumparne così ah ecco questo è quello che vorrei vedere allora ragazzi questa mi sa che è la la mappa la missione in cui dobbiamo raggiungere il Pozzo di Urd dove si deve costruire prima la nostra base per poi andare in quella di Gran Garensis e dobbiamo distruggere tutte le mura e tutto l'esercito prima di arrivare nel Pozzo di Urd e mi pare che sia questa allora notiamo subito il centro città e questo è Odino il Tempio Oxcart con gli abitanti il porto il fortino è fatto mi pare un po' diverso e mi piace l'armeglia la tenda questo edificio non so qual è mi sa che è un edificio nuovo perché non ne ho più pari di vedere di cosa possa essere questa è una caserma vogliava con i due predoni questi dobbiamo essere degli scarmi e qua guardate attenta per me c'è Chirone Arcanthus Ajax Amarra e Grady Merv quindi per me è quella è la missione in cui bisogna aggiungere il Pozzo di Urd ma guardate attentamente una cosa il ponte signori vi ricontate Jeff Bull e Jeff Metology se andate nei redditor ho trovato un ponte che non si può utilizzare esattamente è proprio questo ne hanci il gigante nella montagna nei panchini i lanciatori con asci e questi che sono queste sono unità nuove mi sa o sono i colori di Ragnarok i brocchiti non possono essere molto interessante mi piace molto la grafica però in una mappa di nere mi aspetterei più nere oh mamma mamma mia questa è benissima questa scena questa foto è benissima e ci troviamo penso tipo nel Montetomba presumo lo chiamo Montetomba perché non mi ricordo il nome con il fittone ambero il design per prendere il legno per fare il mio ordine questo è il gigante in titano Mordico con il gigante del ghiaccio in cui potrebbe essere Fallstag oppure una versione aggiornata con tutti gli upgrade della unità mitologica del gigante del geno non dova anche ma in aria che è come dei giganti assieme degli scarmi e queste unità i lanciatori con ascia contro i mupi artici e i mupi i fenugri ma qua c'era sono gente della guarigione Gaia a quanto pare oppure fa parte di questa eh sì di questa fazione il nidog che getta il suo fuoco oh mamma guarda è meraviglioso perché ragazzi come fate a non a non emozionarvi di fronte a un lavoro così in male ma guardate attentamente la cosa voi vi rendete conto questo è Ade i dettagli i dettagli sono qualcosa di spettacolare la meraviglia di Ade il binotauro con i promodos i promodoi che è meraviglioso che è meraviglioso io pridi mippi con questa è l'inipaspista oppure no o questa è l'inipaspista e questa è l'inimidone o il contrario io pridi qua il comosso i toxotes aiace e per sé io non nemmai e lui dovrebbe o un centavo con le marco o il tirone il mercato armeria tiro con l'arco mercato il tempio il santuario laggiù la scuderia cioè il centro città fatto benissimo il granaio le bandiere e le due di guardia più le case le colonne fatte benissimo cioè di cosa parliamo questo è questo è spettacolare meraviglioso hanno fatto persino assassinate di ferro che tende sono bellissime le tende sono sempre state belle ma quanti di dettagli nei muri ragazzi oh mamma che è sta foto ah lo so qual è sta foto questa foto proviene da la missione della campagna dell'antide dove bisogna sconfiggere il prometeo attraverso la costruzione di vari insediamenti costruendo questi insediamenti poi potrei risanare la terra più risani la terra costruendo quattro insediamenti prometeo diventare a dipone e non si potrà compiere questa è la missione e questa è una mappa perché noto memora che sono in questo caso di questo cuore verde a parte di una fazione che è neutrava a tutti edifici distrutti fatti bellissimo tra l'altro e i distruttori i contari lampades insati castori agliace amara adulti nel senso che ovviamente siamo oltre la campagna di Arcanthos che ha detto una ragazza che prima abbiamo visto nel video si risveglierà quindi mi preoccuperemo una grande gesta di Arcanthos a simili sui amariati ma mi ricordo il nome di questa unità mitica dell'antidea il bimbo te lo aggiungo e tu me con gli specchi la scuderia i marini i passaggiori al cielo cioè siamo davanti a un rework totale e non posso più avere paure perché noto un lavoro rimane io sto notando attenzione ai dettagli sto notando proprio ciò che volevo vedere e sono davvero contento c'è anche l'oracolo e la pianta carniva assieme all'automa ma vi rendete conto cos'è ma il tremere cioè siamo davanti a un rework che secondo me è anche meglio di gioco per essere uno definitivo edizione che fu il primo definitivo edizione questo rework immenso totale intrapendo una campagna di 50 missioni questo significa che o hanno unito le due campagne che avrebbero incluso come quella di broccaliti il bel motoro poi c'è assegna le mona di troia affronti giganti nelle distritte se ghiaccianne di mitica cioè questa parte è presa dal filmato del tutorial dei geofitologi normale come che abbiamo adesso si vengono i misteri di osirite diventa un errore mitico persino alla divinità poi ci sta questa nuova questa nuova modalità l'abbinito sfida l'abbinito nelle nuove prove della divinità questo è molto interessante è davvero bene questo ha un massimo di 11 persone azzurro poca troia panteone greco non greco egizio ed antidea i cinesi per il momento non ci sono e per me va bene così io credo che ah medriadi ecco io credo che siamo davanti a un gioco che potrà prendere tante persone tantissime persone sono convintissimo che possa fare bene e sono convintissimo che tantissimi giocatori strategici o che si approcciano a questo mondo LTS che è benissimo si approcceranno a questo gioco perché ne vanno assolutamente una pena un edificio che non vedo è il cantiere navale c'è il porto ma non c'è il cantiere navale i santuari ci sono più spesso e quindi speriamo che se ne faccia a buon uso sperando che abbiano preso anche altre truppe magari che erano state cancellate e che si possono utilizzare va bene signori allora il video può finire qua ho tantissime speranze io spero che esca anche una edizione fisica che non vorrei lo ammetto buone speranze per il futuro i geofmitologi pare che sia in buone mani e sono davvero contento sono emozionato io vi consiglio di non di comprarvi il gioco che vabbè io lo comprarò sicuramente dategli sempre un occhio perché questo geofmitologico di ronde potrebbe dare grandi soddisfazioni è tutto hype abbiamo visto giusto 4 minuti e 30 più foto però ho buone sensazioni speriamo bene ragazzi il video finisce qua spero che il video vi sia piaciuto se vi sia piaciuto mettete un bel mi piace commentate perché voglio sapere anche la vostra guardatevi i miei lungometaggi dei geofmitologi fatelo che non ve ne pentirete per nessun motivo perché poi quando uscirà i geofmitologi io farò un bellissimo buon gometaggio sul nuovo geofmitologico quindi occhio date di uscire al 2024 per me verso settembre e ragazzi speriamo bene grazie a tutti ci vediamo al prossimo video